spesso è necessario armare forme alquanto complesse al plan dispone di funzioni formidabili anche per questa fattispecie in questo esempio ti mostro una variante quando bisogna armare forme complesse è importante che la sezione sia visualizzata il più vicino possibile in modo da catturare i bordi senza problemi successivamente viene creata la forma del ferro ma ancora non viene posato l'armatura longitudinale viene creata semplicemente come punto l'armatura Adesso puoi utilizzare la funzione Rail Sweep Tondini. Per prima cosa, attiva l'armatura nella prima sezione, quindi seleziona il percorso di posa. E il gioco è fatto! Anche adesso puoi modificare i parametri del ferro. Naturalmente, puoi utilizzare questo metodo con forme più complesse. Le differenze di altezza e anche i raccordi possono essere armati in questo modo. Grazie! 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 Grazie!